La signora si è accorta di qualcosa? Niente, di niente. Che famiglia erano questi due anziani? Era normale, una famiglia tranquilla, come lei sembrava tranquilla. La signora si dice che avesse dei problemi di salute? Di salute, sì. Il marito vi ha mai detto qualcosa di questi problemi? No, solo che non stava bene la moglie e basta, non ha detto più niente. Però era tranquillo, insomma? Sì, 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 era tranquillo. Insomma, una famiglia assolutamente normale, che impressione vi ha fatto? Sapere di questa tragedia. È un po' emozionato, mi sento un po' commosso. Sotto abito, adesso abito di sopra. Buongiorno, buonasera, sono contento adesso. Sono tanti anni che abitate? Prima c'è stato quattro anni fa, cinque anni fa. Ma dopo sono andato e poi sono ritornato, dopo quattro anni. Ma è dal mese di novembre, sta qua. Buongiorno, buonasera, calde, sai. Va a fare tutte le spese la mattina. La mattina alle nove esce e torna verso i dieci e mezzo, gli undici meno un quarto. Dopo si mangia e si va a dormire. Dopo la sera, verso le quattro si alza, si mette là sopra, cucina per la moglie, sempre a cucinare per la moglie. La notte, l'uno e mezzo, si alza, cucina per la moglie. E favo quelle come a fare lo frullato. Insomma le voleva molto bene. Sì, sì, però la sole ne la poteva fare più lui. I figli non venivano a trovare? Sì, venivano a trovare, venivano, venivano sempre. Quando gli servevano venivano, venivano sempre le figlie. Veniva una figlia? Una figlia sola qua, stava qua vicino. Avevano problemi economici, stavano bene? No, sta bene, perché venivano tutte e due. Solo che non avevano coraggio agli avanti, perché era solo un marito, gli orti, gli romani. Gli anziani, quando avevano 89 anni, avevano 86 anni. Non ce la facevano più? No, però la moglie ha successo, questo guaglio, la moglie ha successo. Il guaglio lo conosce la vita.